Salve, non saremo brevi, quindi saremo brevissimi. Allora vi presentiamo oggi un progetto che è più un flusso di progetto che parte da molto lontano. Io e Igor abbiamo fondato lo studio due anni fa, ci siamo conosciuti quando eravamo in Lombardini 22 dove io ero lì da ormai 15 anni e Igor era appena arrivato e abbiamo contribuito a creare Eclettico Design che era la divisione hospitality di Lombardini. Questo progetto era parte di una strada commerciale nella quale poi alla fine ci siamo trovati a sviluppare questo edificio che ha una sua peculiarità, una sua particolarità. Che dire, anche noi siamo un piccolo studio, siamo intorno ai 50 collaboratori in questo momento, anche noi siamo, posso dire, pugliesi perché ci siamo conosciuti. Abbiamo scoperto che avevamo la casa in vacanza vicino, veniamo da Milano che è la più grande città della Puglia, quindi ho sentito che ci sono tanti colleghi e tanti progetti, ci fa piacere. Quindi io direi che siccome questi progetti, diciamo il cliente era un cliente di Igor prima che arrivasse, prima che ci conoscessimo, poi si è sviluppato questo progetto, poi ha continuato nella nostra nuova configurazione, io lascerei la parola a Igor che vi racconta questo progetto fighissimo. Siamo in Marocco, siamo a Marrakesh, che è una delle città più forse belle e affascinanti del Marocco e questo progetto si chiama Emma Venue, fin dall'inizio quando questo cliente ha proposto di partecipare a questo sogno che aveva, cioè quello di creare fondamentalmente una via completamente nuova accanto al Four Season Hotel, lui è stato colui che ha sviluppato il Four Season Hotel, che è una via che è veramente un progetto innovativo per una città come Marrakesh, perché è portare innovazione in un contesto che è famoso, apprezzato e amato invece per la sua storicità. Quindi Nabil, si chiama così, nostro cliente, è stato un pioniere da un punto di vista dell'atteggiamento. Emma Venue sviluppa circa 140.000 metri quadrati, è una via che ha funzioni di ogni tipo, va dal residenziale, al residenziale luxury con un brand Four Season, all'interno un hotel, che è quello che poi andremo a descrivere, che è il CR7 Pestana, ha tutta una zona commerciale, quindi è una via prettamente commerciale, con i brand più lussuosi, che solitamente tutti i marocchini vanno a ritrovare di solito a Parigi o a Milano. Il suo intento è dire, no, stiamo a casa nostra, creiamo un luogo nuovo. Il progetto parte da lontano, l'idea parte nel 2014, io lavoro con il mio precedente studio, in stretta collaborazione con Didier Lefort, che è un ottimo professionista francese, che sviluppa tendenzialmente tutto il concept del masterplan architettonico. Emma Venue viene caratterizzata da delle forme molto, diciamo, squadrate, che sono figlie tendenzialmente dell'architettura tipica marocchina e dell'architettura tipica di tutto il bacino del Mediterraneo. Prima abbiamo visto un bellissimo progetto in Puglia, dove fondamentalmente le linee squadrate, i pieni, i vuoti, il gioco delle ombre, che facevano da padrone, idem, tutti questi concetti vengono riportati in questo approccio architettonico. Oggi presentiamo questo progetto, un progetto che è molto particolare, perché abbiamo lavorato appunto con questo marchio che si chiama Pestana CR7. CR7 forse tutti noi lo conosciamo, si tratta del famoso Cristiano Ronaldo, che ha questa partnership con il gruppo Pestana, che è un brand che sviluppa, portoghese, che sviluppa hotel 5 stelle. Il progetto che noi abbiamo seguito è stato fondamentalmente importante per il gruppo, perché ha cambiato completamente il paradigma iniziale del CR7 Pestana. Perché i primi hotel che hanno sviluppato erano, diciamo, perdonate, mi sembravano degli hard rock caffè, sulla figura di Cristiano Ronaldo. Era una serie di gadget incredibili e tutto ruotava sul merchandising del personaggio. Devo dire che strategicamente è stata una cosa molto interessante, hanno capito che il personaggio fondamentalmente prima o poi si sarebbe eclissato e quindi hanno pensato che avrebbero dovuto puntare su altro. Il primo incontro con lui è stato molto interessante perché noi gli abbiamo proposto di cercare di lavorare su un qualcosa che fosse legato al suo modo di vivere, a quelli che fossero degli aspetti essenziali e che l'hanno portato ad avere successo. Tendenzialmente l'architettura che vediamo fin da fuori riporta in maniera però moderna e contemporanea quelli che sono i macro comunque concetti dell'architettura marocchina. Dicevamo prima della grammatica compositiva geometrica, ma anche di tutto quello che è l'aspetto della musharabia, del filtro, della luce, in modo tale da creare e smorzare quella luce incredibile che il paese, il Marocco, riesce a dare. Qui vediamo dei particolari su quello che è il port cocher dell'ingresso. Logicamente la luce, la morbidezza, tutto quello che è un progetto di landscape diventa molto importante perché il target che punta questo hotel è un target giovane, è un target dinamico, è alto a spendente però vuole un'esperienza di lifestyle. Non è molto importante il decorativismo in questo progetto qua, cosa che invece molto spesso ci capita di affrontare ma bensì cercare di avere un luogo, un progetto estremamente rilassante. E questi sono i tre elementi che abbiamo discusso, tirato fuori con Cristiano e secondo lui la vita per vivere bene bisogna mangiare bene, nutrirsi bene, quindi la qualità del servizio, dormire bene per allenarsi bene. Ecco, questi qui sono i tre dogmi che abbiamo cercato di sviluppare insieme a lui. Non sapeva dire altro però... No, vabbè. Logicamente la cosa che poi è stata interessante era cercare di dare comunque sia un trait d'union tra quello che fosse un hotel che dovesse uscire dal decorativismo fondamentalmente dei paradigmi dell'architettura marocchina ma che avesse comunque un po' di maroccan touch. Quindi qua vediamo per esempio una parte dell'ingresso dove c'è un susseguirsi, abbiamo creato un susseguirsi di zone estremamente intime per dare questa sensazione sempre di moltiplicità di spazi interni e di continui, un susseguirsi di continui pieni e vuoti sia da un punto di vista orizzontale che giocano con la luce, sia lavorando con la luce zenitale. La reception desk fondamentalmente ha una forma decisamente morbida, molto accogliente, molto informale perché comunque il brand è un brand giovane e informale ed è caratterizzato sempre da colori estremamente chiari, tono su tono. Questa è stata una decisione abbastanza particolare perché come magari molti di voi sapranno le città marocchine, le città imperiali, ogni città ha un suo colore. Marrakesh ha il rosso, mentre in questo progetto il rosso è stato completamente eliminato dalla gamma colori. Una scelta abbastanza azzardata però. Il design, l'esperienza di hospitality è intesa veramente come un posto che debba regalare un'esperienza soft. Tutto quello che è decoro non viene veramente ridotto al minimo perché c'è stato proprio richiesto di dare un design estremamente asciutto anche perché nelle foto non lo vedremo però spesso e volentieri all'interno delle common area è rimasto il desiderio, la richiesta di avere dei grandi led wall dove comunque possono girare 24 ore su 24 tutta una serie di immagini che parlano della vita del personaggio Cristiano Ronaldo. Le camere comunque hanno linee tese, semplici, abbastanza morbide e curvilinee. Queste linee sempre sono derivate da un concetto di esplosività per la quale il personaggio Cristiano Ronaldo è famoso fondamentalmente. Quindi lui poleva linee estremamente veloci, quindi linee rette, articolate e raccordate con linee abbastanza curve. Le gambe cromatiche per fortuna per il rapporto tra parti cieche di facciata e parti vetrate e per l'entità della luce, il colore della luce, abbiamo potuto tranquillamente utilizzare dei colori abbastanza scuri che vanno in contrasto invece con un bianco puro. Questo è un accenno su un altro lavoro che abbiamo fatto proprio accanto al CR7 Pestana dove abbiamo contribuito a progettare e realizzare tutto l'interior design delle private residences di Four Seasons. Four Seasons è il progetto architettonico sempre sviluppato con l'architetto T.D. Lefort, la matrice e la grammatica compositiva fondamentalmente è sempre la stessa che caratterizza tutta M Avenue. Queste sono delle prime immagini, delle common area, delle zone delle piscine, l'interazione interno-esterno è estremamente importante. Four Seasons lavora sempre con una gamma cromatica molto monotono, molto sui beige, deve essere terribilmente riconoscibile ed è, diciamo, riconoscibile in tutto il mondo. Noi abbiamo curato tutto quello che è lo stylist di questo progetto, sempre, e Four Seasons ci ha chiesto di collaborare con Roche-Boubois per andare a fare il mock-up apartment e portare appunto questo marchio francese che è, diciamo, famoso per delle linee che sono mix fra un classico e poi con degli spunti di moderno e lavorare su quelli che potevano essere appunto un accostamento di elementi d'arredo estremamente contemporanei, mixati invece con dettagli classici. Gli appartamenti sono sempre caratterizzati da una grossa continuità tra interno e esterno, quindi con grossi loggiati, e quindi tutto quello che è gli elementi naturalistici, colori caldi, eccetera, vengono riportati all'interno di tutti gli ambienti. Questi sono degli altri particolari della zona della camera da letto e della zona dei bagni, dove abbiamo utilizzato comunque tutti quelli che sono delle finiture, sempre rielaborati in chiave moderna, dei materiali di fit-out che caratterizzano i riad marocchini. La cosa molto interessante è che questo rapporto tra Nasli, che è il cliente Nasli Holding e Four Season, si è rinnovato e siamo stati chiamati per un progetto estremamente interessante, cioè quello di creare una nuova M Avenue in una nazione in Africa, non possiamo dire purtroppo dove esattamente, sarà il primo Four Season in Africa centrale, e questo qua è un overview del render del progetto architettonico che stiamo sviluppando, che è stato presentato due mesi fa al primo ministro, al ministro del turismo, con Four Season, e sarà un landmark molto importante appunto in centro Africa. È un progetto che sviluppa circa 150.000 metri quadrati, faremo il progetto architettonico con due partner importanti a livello europeo, da un punto di vista architettonico e di progettazione impiantistica e strutturale, e firmeremo il progetto di interior di questo progetto. Speriamo di poter essere invitati a avere la possibilità, fra due anni, forse cinque, di potervelo presentare, perché per noi è veramente un filo conduttore di un rapporto che è nato nel 2014, e speriamo di continuare e di portarlo avanti ancora. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie.